ha 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 distrutto CODO grazie a questa nuovissima build della nuova mitraglietta RAM 9 aggiunta con la season 2 di Warzone sono riuscito a fare delle partite su fortune skip davvero davvero fantastiche lo vedrete voi stessi io vi propongo due miei singoli con un sacco di kills il primo da 27 dove ho detonato la lobby grazie a queste armi che vi proporrò quest'oggi che sono proprio pazzesche ok due colpi buttano giù il nemico senza rinculo veramente raga fantastiche provatele lascio la classe a fine video lasciate un like un commentino e iscrivetevi al canale grazie a tutti quanti per il supporto non vi voglio rubare altro tempo via col gameplay bella boys ho problemi raga a raccogliere l'arma poi letteralmente mi son buttato su una zona dove vado a 2 fps abiti disturbo stile in volo chi sa è sopra e sotto dove sarà questo let's go mi serve una mitraglietta hanno un po' migliorato stavo per dire hanno un po' migliorato avete visto raga che roba altro che migliorato vado a 20 fps letteralmente dovrebbe esserci un altro qua non vedo veramente l'ora di provare la nuova mitraglietta se non ci fosse sto frame lag a volte su alcune zone sarebbe una goduria ehi 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 è atterrato uno qua ok quanti autoress c'ha questo? prendo un guavino al volo oddio andrei a prendere un guavino no il guavino il loddino dai cianci ok abbiamo il loddino parliamo su e prendiamo un guavino ho paura che ci sia qualcuno qua dietro ok qua c'è uno dentro la casa c'è più di uno qua dentro eh minchia raga tira un colpo secondo me qualcuno potrebbe zardare andare qua eh ostia ok c'è sto cecchino la sta un po' rompendo eh ok ok andiamo a prendere un altro guavino devo scapire se c'è qualcuno sotto non so mi conviene andarvene via una ok sono qua sopra qua sopra ok 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 che c***o raga non ci credo godo let's go let's go let's go oh raga tutti qua al castello intanto andiamo anche noi intanto faccio soltanto 3 fps vediamo raga quante kill faccio con 60 fps eh sì eh sì eh sì eh sì dai v***a il c***o ok ok qua dentro Ok Ma era questo secondo voi? Ma no Un guavino va Possiamo prendere questi due qua Questo è in volo Non ci credo raga Non si vedeva niente con sto sole qua Dite che ci sia gente Posso provare? Ok Ok Siamo più goffo Eh può essere che c'è l'impostazione sbagliata Deve andare a mettere o scivolata o ibrida bro Ah minchia non c'ho corazze Buona Non mi ero neanche accorto Distrutto minchia Io metto solo scivolata Ibrida non l'ho ne ancora provata Eh vai Minchia veramente forte comunque quest'arma Godo Perfetto Abbiamo ucciso quello più forte raga Bisogna far così purtroppo Godo Mamma mia Che cacchio di build è questa raga Madre Teresa di Calcutta Ok 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 qui siamo tipo Belli pieni eh Ciao Ancora quattro occhi aperti Cinque squadre ancora attive Ok là ce l'è uno raga non so se ci sia anche Quello di Trima C'è un altro sotto Godo no 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 si Raga 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 come l'abbiamo fatto Grazie a tutti Grazie a tutti